Sindaco, ieri c'è stato questo problema dell'acqua con l'ACA che di fatto ha operato dei lavori ma ha staccato il servizio al comune di Silvi, creando ovviamente tanti disagi. Qual è adesso la vostra situazione? Il problema risale oramai da un paio di giorni e interpellata i vertici dell'ACA avevano fatto uno scarno comunicato dicendo che si sarebbe stato un abbassamento di pressione solo al comune di Monte Silvano, quando in realtà abbiamo avuto il problema anche qua a Silvi. La motivazione che c'è stata data è dovuta al fatto che a Martinsicuro avevano un problema e quindi il ruzzo ha dovuto fornire più acqua a Martinsicuro, ma questo è un problema che a noi non riguarda. Noi vogliamo il servizio che ci spetta e per il quale all'inizio del mio mandato ho fatto anche una richiesta specifica in prefettura a termo affinché non si rivilificassero i problemi sorti negli ultimi anni, perché questo è un annoso problema che noi ci andiamo portando da parecchi anni, sia come distribuzione dell'acqua, ma soprattutto anche per la rete fognante, perché bisogna sottolineare anche, e noi non ci nascondiamo dietro questo problema, che abbiamo avuto anche dei problemi con la rete fognante. Stiamo lavorando anche sotto questo punto di vista con i nostri tecnici e i tecnici dell'acqua affinché si risolva questo annoso e specifico, annoso problema e non ci fermeremo qua, perché sono pronto ad andare avanti con le denunce nelle dovute sedi. Intraprenderete quindi appunto delle azioni legali? Stiamo lavorando con i nostri legali affinché possiamo, se riterremo opportuni intraprendere questa azione, lo faremo sicuramente. Cioè, io come primo cittadino e come tutore della salute pubblica dei miei cittadini, sono il più arrabbiato di questa situazione, che non voglio adesso scaricare responsabilità al passato, perché questa non è una politica che a me piace, nella maniera più assoluta. Però vorrei anche precisare che noi ci troviamo a dover ottemperare un problema che, ripeto, annoso. E forse per la prima volta, per la prima volta, questo problema è stato preso veramente dalla parte giusta per poter arrivare a risoluzione.